Iniziamo la tavola rotonda, ma intanto permettetemi di manifestare la mia soddisfazione nell'essere qui oggi con voi. Ringrazio veramente la professoressa Becchi, Alessandro Mariani, il professor Cambi, Maria Grazia Riva, tutti i promotori di questa iniziativa per avermi invitato a presiedere questa tavola rotonda. Tavola rotonda torna sui temi, diciamo, in qualche modo della mattinata, quindi i saperi dell'educazione, come luogo dell'invenzione responsabile, attraverso, diciamo, una rosa di quesiti che articolano questa problematica. La professoressa Becchi, insieme agli altri promotori, ha messo a fuoco una griglia di domande che mi sembra opportuno mantenere per dare unitarietà di direzione alla tavola rotonda. Le leggo, dopodiché, diciamo che i nostri relatori sono invitati a confrontarsi liberamente con queste domande. Non è di certo richiesta una risposta puntuale, quesito per quesito, da questo punto di vista. Quindi, a loro piacere, possono privilegiare le questioni che tra questi quesiti trovano più congeniali alla propria ricerca e, in qualche modo, diciamo, al proprio genio. Il mio contributo consisterà in un breve commento iniziale di queste domande, non sicuramente per darne un'interpretazione autentica e neppure per vincolare le direzioni delle risposte dei relatori, ma semplicemente per arricchire, in questo senso, il dibattito. Sono quesiti che, indubbiamente, hanno una forza non soltanto generativa, anche propulsiva. Cioè, quando li ho letti, innegabilmente sono stato spinto a pensare a tutta una serie di cose. Vi leggiamo, e li commento uno per uno, molto brevemente. L'introduzione è, nella costruzione della vostra ricerca pedagogica e del vostro profilo di pedagogista, qual è il rapporto con la tradizione pedagogica? Primo problema, primo quesito. Certo, indubbiamente, questo è un nodo cruciale di qualsiasi epistemologia dei saperi. Sappiamo come su questo problema si siano confrontate un'impostazione discontinuista e un'impostazione continuista. Un'impostazione delle rotture epistemologiche, che dice che la ricerca è essenzialmente un processo di continua rottura con la tradizione. Quindi, un continuo processo di sterzate. L'epistemologia di Bachelard, tanto per fare un nome. E il continuismo, invece. L'impostazione, per citare un nome, ma ovviamente ce ne potrebbero essere molti altri, alla Lakatos, che invece vede il rapporto con la tradizione come un processo di decantazione progressiva di un nucleo che identifica l'identità di un programma di ricerca. Un pensatore che, per la verità, non è tra i miei preferiti, però su questo mi sembra che dico una cosa molto saggia. McIntyre fa un'osservazione, secondo me, molto intelligente. In ogni caso, una tradizione di ricerca è viva fino a che si rimette in discussione. Fino a che rimette in discussione continuamente se stessa. Perché quando questo processo interno, autocritico, viene a cessare, una tradizione degenera in una scolastica che è di per sé morta come tradizione di pensiero. Per cui, certamente, il problema, come l'ha chiamato Kuhn, della tensione essenziale tra la tradizione e l'innovazione è un punto focale con cui qualsiasi ricercatore si deve confrontare. Da un lato non può fare ricerca se non collocandosi dentro una tradizione, dal lato il suo problema è quello di vivificare, continuare a far sviluppare quella tradizione di pensiero. Qual è il rapporto dei pedagogisti con le tradizioni pedagogiche? Due. Qual è il rapporto, secondo quesito, con i cosiddetti maestri? E questo è un quesito di un'importanza e di una delicatezza straordinaria in questo senso. Di certo il discorso sarebbe lunghissimo. Io voglio soltanto evidenziare un punto. Che cosa recepiamo dai nostri maestri? Cos'è che ci tramandano? Ci tramandano soltanto un impianto di categorie, una rete concettuale che hanno saputo mettere a punto e grazie alla quale hanno saputo affrontare e risolvere problemi che ci permettono di spingere più avanti la ricerca, oppure ci tramandano anche problemi. Personalmente sono inclini a pensare che talvolta il contributo più prezioso dei maestri è quello di tramandare una serie di problemi che indicano la direzione della ricerca, cioè che indicano in quale direzione occorre continuare a ricercare, al di là di quegli impianti categoriali che essi stessi sono riusciti a costruire. Terzo punto, vado veloce. Cosa ne pensate del rapporto tra pedagogia generale e pedagogia di fatto? Come scrive Alessandro Mariani nella sua introduzione, nella sua bella introduzione, aggiungo. Certo, quello è un passaggio estremamente interessante della introduzione di Alessandro. La pedagogia generale come congegno che in qualche modo deve regolare, deve mantenere vivo il processo critico rispetto alle pedagogie di fatto. Ma qui credo che ci siano antecedenti molto importanti. D'altra parte, perdonatemi, personalmente appartengo alla tradizione del problematicismo pedagogico che da Banfi e Bertin si è sviluppata fino a Frabboni, di cui sono allievo. E quindi la questione delle pedagogie di fatto, bertinianamente, veniva collocata all'interno dei modelli educativi. Cioè un modello educativo ha in sé una pedagogia di fatto che è compito di una filosofia critica, in qualche modo, diciamo, rivelare nelle sue strutture e criticare in quelle che sono le sue strutture e le sue intenzionalità. Certo, oggi su questo tema della pedagogia di fatto abbiamo avuto altri contributi molto interessanti, ma ne cito soltanto uno perché non tocca di certo a me approfondire il discorso, ma vorrei soltanto ricordare il costrutto bruneriano della pedagogia popolare. Il costrutto bruneriano della pedagogia popolare, il fatto che gli educatori operino continuamente immersi in una pedagogia popolare, in una rete di credenze che è quella che dà forma ai loro atteggiamenti e in qualche modo crea le loro propensioni d'azione, è una chiave di lettura estremamente interessante per una pedagogia che, come diceva prima Susanna Mantovani, non voglia essere solo teoria, ma voglia essere sapere, capace di incidere nella pratica. Perché Bruner, nel suo ricordarci che una pedagogia è efficace soltanto quando riesce a trasformare la pedagogia popolare degli operatori, a fondare quello che Gramsci avrebbe chiamato un nuovo senso comune, questo pone un rapporto tra pedagogia formale e pedagogia di fatto, da questo punto di vista, a mio parere cruciale, per la stessa produttività del sapere pedagogico che, se privato di questo nesso, è condannato alla irrilevanza sociale e educativa. Quarto punto. Da quale grande matrice di saperi voi partite per costruire il vostro punto di vista pedagogico? Ah, qui davvero il quesito è, diciamo, di quelli che fanno tremare le vene e i polsi, come si dice. Certo, me la potrei cavare dicendo, ognuno di noi ha la propria tradizione, la mia è quella del problematicismo. Però qui quello che vorrei mettere in luce è l'uso stesso del termine. Matrice. Matrice. Certo. Possiamo noi oggi continuare ad adoperare questa figura dell'organizzazione dei saperi. Di matrice disciplinare, come sappiamo bene, ha parlato Kuhn, dicendo che ogni paradigma è identificato da una propria matrice disciplinare. Ma la matrice è anche una figura estremamente forte di organizzazione del sapere. È un incasellamento del sapere, di tipo ordinato, anche gerarchizzato, eventualmente, che oggi forse non sappiamo più se possiamo mantenere come tale. Perché le matrici paradigmatiche, da un lato, si sono fatte porose e si lasciano infiltrare da numerosi altri contributi. Dall'altro, hanno perso geometrie di tipo eclideo, cioè una serie di caselle. Hanno acquisito morfologie, direbbe, cambi molto più dismorfiche, in questo senso. Quindi, credo che questo quesito chiami in causa, primo di tutto, i nuovi criteri di ordinamento del sapere pedagogico che dobbiamo essere in grado di pensare. Perché è vero che ormai non possiamo più pensare i saperi alla luce del concetto di sistema, cioè cantianamente, alla fict, per cui la scienza deve avere comunque una struttura sistematica o non è scienza. È vero anche che non possiamo, però, abbandonare il sapere pedagogico alla pura frammentazione, da questo punto di vista. Non li possiamo abbandonare alla semplice magmaticità dei saperi, perché questo comporta di smarrire qualsiasi coordinata. Ultimo e chiudo, perché l'ho già fatta troppo lunga. In che modo, secondo voi, i saperi dell'educazione possono porsi come luogo dell'invenzione responsabile? Ma questo è un quesito che, siccome fa tutt'uno con la struttura della mattinata e il tempo che mi ero dato è concluso, lascio direttamente, diciamo, ai nostri relatori, che ringrazio fin da ora. Bene, allora, sono le 3.20. Qui dobbiamo fare un po' di anticipo se vogliamo lasciare tempo a chi non ha parlato nella mattinata di potersi esprimere alla fine. Quindi chiederei a ciascuno dei nostri relatori di tenersi in 15 minuti di intervento in modo tale che verso le 5 qualcosa, 5 e un quarto massimo, guadagniamo quel quarto d'ora che possa servire alla fine. Quindi, 15 minuti, passo la parola ad Anna Bondioli. Grazie. 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 Ecco, ora sì. Tenterò molto brevemente di dare una risposta forse a tutte e cinque le domande. Molto brevemente. E comincerei con quella che riguarda un inizio, cioè la mia formazione, cioè qual è il rapporto con i cosiddetti maestri. Io, quando penso al mio lavoro accademico di ricercatori in pedagogia, lo immagino come un lavoro artigianale, più che una professione. Certo, un lavoro artigianale di tipo intellettuale, più che manuale, però caratterizzato da pratiche. Pratiche di concettualizzazione, di investigazione, di esame della letteratura, e anche da metodiche. Come si imposta una ricerca bibliografica, come si leggono i testi. Un lavoro che poi ha come risultato dei prodotti, inizialmente sono dei semi lavorati, poi dei prodotti finiti, che vengono scambiati e circolano all'interno di una comunità. Beh, forse questa metafora è insufficiente, in qualche modo, a rendere conto di tutti gli aspetti del nostro lavoro di pedagogisti accademici. Ma è utile per il modo con cui io mi spiego e mi rappresento il rapporto con i cosiddetti maestri. Perché io ho avuto la fortuna di partecipare, fin dall'inizio della mia carriera accademica, a un gruppo di ricerca che a partire dagli anni Ottanta faceva capo a Eglebecchi. Un gruppo in cui i partecipanti sono variati nel tempo, che ha svolto diverse ricerche, messo in atto esperienze educative per più di vent'anni. Ecco, il modo di lavorare che io ho sperimentato nell'ambito di questo gruppo di ricerca mi ricorda proprio quello della bottega artigiana, dove mastri e appendisti lavoravano insieme a realizzare prodotti non in serie, ai quali entrambi contribuivano in maniera diversa in relazione alla maggiore o minore esperienza, all'interno del quale l'apprendimento veniva soprattutto nel contesto, anche attraverso forme di imitazione e di riferimento a modelli. Quindi io ho imparato in qualche maniera a fare ricerca come pratica artigianale partecipando a questo gruppo di lavoro, all'interno del quale da apprendista sono diventata sempre più esperta. Beh, si è trattato, io direi, di una sorta di learning by doing, per dirla con Dewey, considerando che il fare qui era discutere, elaborare dei progetti, raccogliere dati, analizzarli, commentarli, raccogliere della letteratura, di riferimento, socializzare i risultati. Poi, quando ho riflettuto, ho cercato di riflettere su come mi sono formata, il modo con cui Brune, riferendosi a Vygotsky, descrive il processo di tutoring come azione tra partner più o meno esperti nell'esecuzione di compiti condivisi e come azione da parte del più esperto nell'area di sviluppo prossimale del meno esperto, attraverso poi strategie anche particolari, mi è in qualche maniera sempre apparso caratterizzare il gruppo di lavoro a cui ho partecipato, all'interno del quale fin dall'inizio il rapporto tra maestro e apprendista non era di sulbergenità, ma di confronto, ovviamente sempre nell'ambito anche di collaborazione, ma nell'ambito ovviamente di competenze sperequati. Ora, una volta che io sono diventata più esperta, mi sono accorta che tendevo a riprodurre questo modo di realizzare il lavoro di ricerca con i dottorandi e gli allievi, in particolare i laureandi di vecchio ordinamento, e mi accorgevo che imparavo io stessa nello scambio. Dunque, a mio avviso, anche gli studenti implicati in un lavoro veramente di ricerca sono stati, e sono per me, in un certo senso dei maestri, perché ponevano degli interrogativi, mostravano delle difficoltà nell'applicare dei metodi, esprimevano delle ipotesi interpretative, sollecitavano in me l'argumentazione concettuale. Anche i lavori che sempre in questo gruppo sono stati svolti, quelli che noi chiamavamo di ricerca-formazione, diciamo così, nei quali erano coinvolti gruppi di insegnanti, e mi riferisco soprattutto alle ricerche di valutazione del contesto, e all'elaborazione di strumenti di valutazione della qualità realizzate secondo modalità partecipative, riflessive, ecco, anche questi gruppi hanno avuto aspetti simili a quelli del gruppo di lavoro, nel senso che noi ricercatori non eravamo tanti rappresentanti di un sapere da trasmettere, ma ci ponevamo in una posizione di ascolto, di ascolto delle idee, delle opinioni, dei modi di sentire e concepire il proprio lavoro da parte di insegnanti e educatori. E in questo lavoro di ricerca ho imparato molto io sul mondo della scuola e dei servizi per l'infanzia di cui mi sono sempre occupata, e ho soprattutto imparato a vedere come i grandi problemi dell'educazione si calassero poi nelle scelte e nelle pratiche quotidiane degli operatori. Quindi mi sono avvicinata in qualche maniera con altri occhi al mio oggetto di studio e quindi mi sento in qualche maniera di poter affermare che anche gli insegnanti, gli educatori sono stati per me in un certo senso dei maestri. E infine non posso dimenticare ovviamente tra i maestri quegli studiosi non solo di pedagogia ma delle scienze umane cui mi sono avvicinata attraverso la lettura dei loro testi soprattutto non tutti ma quelli che io ho perlustrato più volte cioè che ho riletto tante volte e faccio solo qualche esempio Dewey ovviamente Bateson Goffman Sigmund Freud Anna Freud Winnicott ecco con questi io ho instaurato un dialogo a loro sono ritornata più volte quando avevo degli interrogativi da risolvere ogni volta ho trovato in loro delle sfumature che non avevo colto e quindi me le sono servite in maniera diversa e quindi mi piace in qualche maniera considerarli i classici mentali in qualche maniera della mia biblioteca e in questo senso dei miei maestri conseguente a questo c'è il problema della tradizione passo dai maestri alla tradizione allora dico due cose molto veloci in primo luogo tutto diciamo così il sapere pedagogico che abbiamo alle spalle è una tradizione è banalissimo ma che cosa per me è importante nella tradizione nella mia esperienza di pedagogista io penso che la tradizione sia importante ma sia stato detto nella misura in cui apre all'innovazione e io penso che la pedagogia voglio dire ha come sua specificità e in questo si differenzia da altri saperi limitrofi che comunque usa come fonti o comunque come interlocutori per il fatto che si occupa di una problematica che ha a che fare ovviamente anche con la teoria ma dei problemi che sono esclusivamente squisitamente in qualche maniera pedagogica allora da questo punto di vista la tradizione pedagogica offre una gamma articolata di problemi che è possibile ovviamente rintracciare in tutta la storia delle idee pedagogiche e che credo costituiscono l'orizzonte a cui qualsiasi diciamo così ricerca e riflessione si riferisca sull'educazione però se invece per tradizione si intende diciamo un framework teorico più preciso a cui io mi riferisco anch'io mi devo riferire a Dewey ma non nel senso in un senso generico io mi riferisco a Dewey in un senso a mio avviso più specifico mi riferisco in particolare al Dewey della logica oppure al Dewey di come pensiamo cioè all'idea che la ricerca educativa è un pensiero riflessivo che ha origine in situazioni di esperienza dubbiosa e incerte che queste situazioni dubbiosi vengono problematizzate attraverso diciamo la rilevazione empirica cioè l'andare a vedere quali sono i fatti del caso ma questo andare a vedere i fatti del caso cioè l'osservazione è guidata da ipotesi le quali a loro volta derivano dalle teorie ma nel corso di questo processo le stesse ipotesi si correggono si modificano ma non è finita qui perché l'ipotesi poi a un certo punto corretta modificata diventa un progetto un progetto che potrebbe realizzarsi e si realizza e una volta che il progetto si è realizzato non basta ancora una volta perché occorre in qualche maniera verificare se davvero ciò che si è ripotizzato in qualche maniera cioè se i mezzi che si sono utilizzati servono davvero a raggiungere i fini che in qualche maniera ci si era riproposti questo modo di fare ricerca che mi viene in qualche maniera sostanzialmente da Dewey e che io ritengo importante come utilizzo in qualche maniera della tradizione i saperi allora i saperi sono certo quello della tradizione pedagogica per quanto ho detto qui io sono un poco autobiografica per certi versi da un lato io ho una preparazione filosofica mi sono laureata in filosofia e ci tengo in qualche maniera a dirla ma non è che l'atteggiamento filosofico che a mio avviso è così fondamentale per chi fa anche ricerche in campo educativo deriva dal fatto che si utilizzi un metodo un metodo che consiste in qualche maniera nell'elevare a ordine di problema quello che risulta ovvio per il senso comune che presuppone sempre quindi dei quadri di riferimento teorico e che tiene presente anche l'orizzonte di valore in qualche maniera con cui ogni pedagogia deve fare i conti quindi la filosofia soprattutto come atteggiamento come forma mentis ma diciamo altri saperi sono quelli ovviamente che io ho utilizzato soprattutto occupandomi di pedagogia della prima infanzia li nomino molto brevemente la psicologia dell'età evolutiva la sociologia soprattutto per quanto riguarda il concetto di socializzazione per quanto riguarda anche alcune nuove vie che sono state aperte l'idea per esempio della cultura dei bambini la psicoanalisi che io ritengo fondamentale per l'attenzione agli aspetti emozionali della crescita ai ruoli svolti dalle figure adulte nell'ambito della famiglia all'attenzione al mondo interno dei bambini allora io credo che questi saperi ecco non sono dei saperi come l'utilizzo in qualche maniera come li ho utilizzati allora da un lato perché complicano arricchiscono diciamo la visuale del pedagogista mettendo in evidenza degli aspetti che altrimenti non vede in secondo luogo perché molti di questi hanno dentro di loro delle pedagogie perché se io penso per esempio sempre pensando al mio al mio ambito alle amstead neurosuris dirette da Anna Freud alla malting house di Susan Isaacs all'asilo psicoanalitico di Mosca di Vero Schmitt io vedo che qui ci sono delle pedagogie che sono state tra l'altro realizzate in parte anche verificate e infine ecco io vorrei ecco mi sembra che un sapere che poco è stato così indicato anche in chi mi è preceduto è il sapere della pratica ecco se ne hai parlato ne ha accennato Baldacci parlando delle cosiddette pedagogie popolari ma io è un po' con un altro con un altro orientamento che vorrei definirlo allora è un carattere cioè un sapere non dotto ibrido di carattere soprattutto esperienzale che però conduce ad azioni intenzionali è un sapere vero implicito caratterizzato da forme di pedagogia latente poco consapevoli anche se molto efficaci quando dico sapere della pratica intendo il sapere dell'insegnante del genitore un sapere che il pedagogista accademico ha quasi sempre considerato un poco di secondordica perché non è sistematico perché è intreso di pregiudizi perché è locale soggettivo resistente al cambiamento ma io credo che sia un sapere con il quale è necessario instaurare un dialogo analogo a quello che si instaura con i saperi dotti in una prospettiva di confronto e di collaborazione non solo si tratta di un sapere che andrebbe studiato nella sua formazione e evoluzione ma con il quale fare concretamente i conti a questo punto si avrebbe una maggiore possibilità di connettere i processi volti alla produzione della conoscenza e i processi volti a orientare la prassi perché si avrebbe un recupero dell'esperienza come punto di partenza per l'individuazione di interrogativi di ricerca significativi per la possibilità che offre di esami diciamo locali e dall'interno di problematiche educative generali e anche per incentivare in qualche maniera il processo di costruzione della conoscenza pedagogica come diciamo una conoscenza per usare un termine che adesso è un po' abusato distribuita ecco allora se io vado a vedere il rapporto tra pedagogia generali e pedagogia di fatto anche qui quest'ultimo riferimento per me è importante molto brevemente allora da un lato presento due modi un poco contrapposti di vedere questo rapporto da un lato da un lato può essere immaginato pensando che il compito della pedagogia è quello di elaborare modelli alternativi anzi cominciamo dall'altro da una parte e lo si è detto anche stamattina che la pedagogia nei confronti della pedagogia di fatto ha il compito di interpretarle criticamente io però temo che questo impegno critico se preso di per sé faccia sì che il pedagogista accademico un poco come il filosofo diciamo così di galliana memoria sia la nottola di minerva che inizia il suo volo al fare del crepuscolo però all'opposto c'è l'idea invece che il compito della pedagogia sia quello di elaborare appunto modelli alternativi volti alla produzione di cambiamenti quindi una tensione in qualche maniera utopica allora io proporrei in qualche maniera un altro modo ecco certo che non esclude i precedenti ovviamente che sono altrettanto importanti e cioè di considerare le pedagogie di fatto i fenomeni educativi concreti così come si realizzano nel presente parlo di fenomeni e non di fatti educativi per indicare che qui nei fenomeni educativi ci sono relazioni tra persone che oltre che essere produttori di pratiche sono anche produttori portatori di significati e allora a questo punto io credo in qualche modo che istituire le pedagogie di fatto istituire un rapporto con le pedagogie di fatto significa anche assumere nei loro confronti un atteggiamento diciamo di attenzione di ascolto per istituire con loro un dialogo aperto in modo tale da comprendere come davvero le problematiche della pedagogia si intrecciano con le esperienze e i modi di pensare propri di coloro che le pedagogie di fatto poi le realizzano allora l'idea che intendo proporre è che questo rapporto potrebbe essere pensato storicamente e localmente nella forma di ricerche partecipate che presuppone un dialogo aperto tra chi si occupa di pedagogia generale e chi lavora nei contesti educativi concreti e vorrei fare una breve notazione relativa alle scienze dure il treno a vapore funziona sulla base del secondo principio della termodinamica ma fu costruito prima dell'inunciuzione del principio teorico che ne era alla base e vengo allora molto brevemente all'ultimo punto che è quello di come i saperi di educazione possono porsi come luogo dell'invenzione responsabile allora io penso cioè penso per la mia esperienza che questo può avvenire se il pedagogista accademico in qualche maniera si pone in una dimensione progettuale dove però la progettualità va non solo identificata sulla base di uno continuo riscontro con le situazioni di esistenza quindi con le cosiddette pedagogie di fatto ma d'altra parte è presente nella progettualità l'elemento della verifica e quindi ancora una volta un rapporto tra teoria diciamo esperienza che sia a monte che alla fine vede questo nesso estremamente chiaro e nitido grazie anna contributo di grande chiarezza e con vari concetti forti l'apprendistato il pensiero riflessivo il sapere della pratica i fenomeni educativi quindi una riflessione direi molto coesa oltre che molto rispondente ai quesiti che venivano posti e la parola adesso è a Duccio Demetrio grazie grazie a questa lettura grazie a un'occasione che come già è stato messo in luce ha soprattutto io credo un valore simbolico è un valore simbolico che ricondurrei a una nozione che mi sta molto impegnando anche dal punto di vista della mia ricerca della mia ricerca sulle storie di vita la ricerca autobiografica che è il concetto di restituzione un concetto che ritengo chiave per la ricerca pedagogica per la ricerca educativa sul campo per la ricerca che si avvale di approcci soprattutto di tipo qualitativo e di carattere direi decisamente narratologico oggi un'occasione di restituzione di restituzione di ciò che è accaduto all'interno di un percorso di ricerca da parte dei colleghi più o meno giovani è un progetto che ci collega in fondo all'ultima domanda tra le cinque l'invenzione responsabile ecco l'invenzione responsabile a mio parere ha molto a che fare con quanto noi abbiamo ricevuto con i brandelli anche di teoria di esperienza di consiglio che abbiamo ricevuto e con quanto anche in forme ancora talvolta imprecise confuse come più volte è stato ricordato riusciamo a trasformare e a proporre come metodo come cammino un'altra metafora importante per indicare un andare incontro un raccogliere che valorizzi soprattutto un concetto che oggi forse è stato poco espresso il concetto di processualità dell'educazione di incontro quindi con l'imponderabile come invece è stato ricordato ecco io credo che dalla lettura che ho cercato di rendere la più attenta possibile non con quella cribia che sicuramente è stata dedicata da altri colleghi io credo innanzitutto e ne gioisco molto che ci sia uno stato di saluto di salute eccellente per quanto riguarda la filosofia dell'educazione più che della pedagogia non c'è contributo che non abbia nelle sue bibliografie riferimenti di carattere filosofico allora nel momento in cui negli anni settanta e io vengo da quella stagione l'empirismo educativo e pedagogico si andava sempre più allontanando da una matrice filosofica che poi ha ritrovato che poi ha riconquistato grazie ad alcune voci ad alcuni maestri ecco io credo allora che questa restituzione la restituzione nei confronti di tutti noi del sapere pedagogico articolato nelle sue varie declinazioni costituisca dalla filosofia del linguaggio alla filosofia esistenzialistica alla filosofia che traccia le vie tracciate dai grandi maestri evocati che sono stati anche i miei Banfi Paci ecco queste vie oggi sono finalmente pienamente riconosciute non abbiamo più il timore di ricondurci quindi alla matrice per usare un termine forse certamente da discutere che è una matrice filosofica ne abbiamo bisogno forse ancora molto sfumata è la connessione tra filosofia dell'educazione e pedagogia e pedagogia generale ma una cosa mi sembra quasi sicura che la cultura del pedagogista non ha più timore a confrontarsi con questi saperi l'aspetto ulteriore che già richiamato mi sembra di poter mettere in luce è che viceversa dopo quanto detto prima stia svaporando per usare un'immagine un po' lacaniana l'oggetto empirico dell'educazione perché come sempre i paradossi ci aiutano a pensare da un lato la filosofia ci riconduce e quindi a necessità di analisi concettuali quanto mai puntuali ma noi non possiamo dimenticare l'oggetto e gli oggetti dell'educazione ecco se questo avvenisse io credo che si potrebbe rischiare di ritrovarci dinnanzi a neo idealismi in campo in campo pedagogico che non si riconoscono naturalmente nella mia storia nella mia tradizione il terzo aspetto che è conducibile al precedente e che ho trovato ben poco anche citata ma scusi colleghi se questa notazione mi è sfuggita la categoria del conflitto la categoria del conflitto la dinamica esistenziale del conflitto la dinamica ne parlerò tra un istante di carattere conflittuale difficile tra maestri allievi tra idee tra emozioni tra sensazioni ciò che compongono quindi la struttura vitale del nostro essere insegnanti dinanzi a degli allievi e sono cose materiali sono cose che accadono nella quotidianità aspetti che ci riportano quindi a dinamiche inevitabilmente di conflitto relativamente al potere al potere del maestro al non ancora potere dell'allievo alle forme talvolta di supinità e di sudditanza ecco io tutto questo credo che debba essere messo a fuoco non tanto per un'attività di tipo introspettivo autoanalitico ma perché giustamente più volte anche oggi si è ribadito abbiamo bisogno di entrare nelle fenomenologie dell'esperienza educativa abbiamo bisogno di smascherare le tante retoriche che non sono le retoriche di cui parlava Monica Ferrari in questo caso stamattina sono le retoriche che noi utilizziamo anche per ingannare talvolta i nostri allievi ecco quindi credo che sia importante proprio per evitare questi rischi di dare necessario dare maggiore spazio ai contesti ai testi narrativi che noi produciamo verbali io questo l'ho imparato dal lavoro un po' distanza ma di grande importanza per me con Egle Becchi con Lucia Lumbelli dove la positività del linguaggio della parola ti consente anche poi di enunciare concettualizzazioni e di scoprire quindi nell'emersione dalla realtà delle categorie che vai cercando ecco questo è un empirismo che credo dovrebbe sempre accompagnarci ho citato Egle Becchi sul piano della restituzione non posso che ringraziarla io seguì nei corsi di Egle una sola lezione perché poi esplosero una bottiglia Molotov nel corridoio della statale e non ci tornai mai più ti ricordi? sì prese fuoco io con la giacca non ci tornai più non ci tornai più perché non potevo tornarci perché io lavoravo già ventenne in quel campo che oggi chiamiamo di pedagogia quindi sul campo pedagogia di fatto e è all'interno della pedagogia di fatto che nacque quindi il mio tentativo di cercare riferimenti maestri rispetto a un tema a un oggetto che allora appariva quasi ignoto sconosciuto che concerneva l'educazione in età adulta e la formazione degli adulti non avevo maestri avevo dei riferimenti concettuali alti non potevo quindi guardarmi intorno e rivolgermi a retoriche ancora una volta piuttosto vacque sulla definizione di adulto sulle immagini stereotipate di quella che poi sarebbe chiamata l'adultità avevo bisogno di esplorare altrove di dirigermi verso altre forme e manifestazioni del sapere e questo ho fatto e ho fatto sì quindi che diversi saperi entrassero nella mia formazione per cercare questo oggetto per me enigmatico che continua a restare enigmatico dell'età adulta per cercare di individuare però allo stesso tempo dentro questo oggetto tematico l'oggetto di natura educativa e pedagogica e da qui il mio avvicinamento inevitabile alla filosofia del linguaggio alla filosofia della narrazione a una filosofia che ci consente pertanto di ne parlava molto bene Cambi questa mattina nell'elenco che ci ha proposto relativamente alle declinazioni di diversi argomenti cruciali oggi della educazione il soggetto la formazione del corso della vita la coscienza di sé la categoria di cura ecco avevo bisogno quindi di guardare altrove di guardare oltre i confini del nostro paese perché era a mio parere indispensabile sfatare alcune convenzioni alcuni luoghi comuni e quindi la mia indagine la mia ricerca si è posta in una direzione la più interessata negli anni ottanta così come tanti di noi siamo stati affascinati da queste proposte che riguardavano le tesi o le teorie della complessità è stato questo paradigma che non è poi un paradigma ma è il riferimento alla complessità di qualsiasi oggetto della conoscenza che mi permetteva quindi di smontare il congegno per usare un termine molto caro a Franco a Franco Cambi il congegno non solo soggettivo soggettuale dell'entità adulta ma soprattutto questo congegno diventava ancora più interessante nel momento in cui potevo tentare di declinarlo con una grammatica con una sintassi logica per comprendere quale fosse la trasformazione possibile nel corso di una esistenza di una vita adulta mi voglio soffermare su quanto Egle questa mattina con la sua consueta eleganza e analiticità ci proponeva a proposito di maestri ricorderete maestri che noi andiamo cercando ma in realtà forse andiamo cercando noi stessi diceva e dice anche nel libro non si vuole più diventare maestri la solitudine inevitabile del ricercatore si diventa maestri opponendosi anche ad altri ecco allora mi limito senza forse rispondere a tutti i quesiti a soffermarmi perché qui alla Bicocca con Riccardo a lungo e anche ancora prima Riccardo Massa in Statale a lungo con Paolo riflettemmo sulla categoria di magistralità per me la magistralità anche in una prospettiva pedagogica è un sistema non un sistema kantiano è un sistema relazionale ci sono categorie diverse in questi atti gesti di restituzione c'è il maestro certo ma per me il maestro e per molti di noi anche questo è stato detto oggi il maestro per lo più rappresenta l'altrove rappresenta il lontano rappresenta l'inarrivabile l'irraggiungibile rappresenta qualcosa anche che noi produciamo nella nostra fantasia per adattarlo alle nostre necessità ma il maestro secondo me deve essere lontano deve essere qualcosa che ti stimola e ti provoca proprio perché non ce l'hai accanto a te ma un conto il maestro un conto il mentore ecco per me Egle Becchi è stata mentore perché mi segnava con la matita rossa e blu quegli indecenti articoli che pretendevo di pubblicare su scuole e città Egle era un contenitore talvolta acre talvolta giustamente severo l'ha fatto con Susanna che l'ha fatto con me per fortuna Egle Becchi come mentore come mentore come contenitore come mentore che ti dà delle opportunità e se tu sai raccoglierle allora puoi ingaggiare la tua vita nei campi diversi che scegli per il tuo per il tuo destino la collana condizionamenti educativi sarebbe interessante ragionare oggi sull'idea di condizionamento la collana condizionamenti educativa fu per me per me questo contenitore il mentore il mentore ti sta vicino si prende cura ti tutela ma ti allontana anche il mentore ti allontana il mentore ti si separa il mentore va in pensione il mentore va in pensione caro Michele è vero che siamo pedagogisti fino a 100 anni ma il mentore deve anche andare simbolicamente in pensione a mio parere il mentore quindi è colui che segnala anche deve segnalare la sua stanchezza che deve segnalare la sua separazione ma oltre al mentore c'è l'amico l'amico col quale confliggi l'amico che ti tradisce l'amico che comunque fa parte di questa comunità di crescita in campo educativo o pedagogico che sia e c'è il collega c'è la sua competizione ecco tutto questo tutto questo dà luogo a un sistema relazionale che a mio parere va tenuto quanto mai presente alla luce ecco di un tentativo di individuazione di una mappa teorica per cogliere queste dinamiche per capire come facciamo a diventare donne uomini che hanno un interesse pedagogico e per l'educazione certo queste sono dinamiche che interessano tutte le fenomenologie della restituzione scientifica culturale anche le più modeste anche le più familiari ma credo che sia importante non dimenticare mai che una trasmissione una restituzione pedagogica di livello accademico non accademico si compie nella dinamica conflittuale nel distacco nel riconoscimento e si compie anche all'insegna di una comunicazione non solo di contenuti ma di stili di pensiero di stili e di estetica della relazione tra noi ma sempre all'insegna di questa inevitabile attenzione per storie umane che mi auguro proprio agli effetti di questo ritrovamento delle nostre responsabilità educative vengano narrate e raccontate nella loro profonda esperienzialità e autenticità noi oggi abbiamo bisogno di queste verità le verità che nascono dal nostro essere e dal nostro esserci grazie grazie Duccio anche per il rispetto assolutamente rigoroso dei tempi ma un contributo molto complesso che non cerco ovviamente di riassumere in questo senso vorrei soltanto sottolineare un passaggio che al limite era marginale ma nell'economia del discorso di Duccio invece rivestiva un'importanza credo anche non secondaria cioè il rapporto tra empirismo e filosofia che è stato uno dei conflitti in qualche modo epistemologici del nostro sapere la sua annotazione che la pedagogia non può rinunciare né a un oggetto empirico perché altrimenti si dissolve nelle retoriche né però può rinunciare a quel luogo teorico che la caratterizza nella sua identità più fondamentale credo che sia un punto da tenere fermo nel dibattito per evitare che la pedagogia da un lato scivoli verso semplicemente lo sperimentalismo diciamo cieco per utilizzare una categoria una analogia kantiana e però non si perda neanche retoriche vuote bene adesso la parola è a Vanna Iori prego Vanna grazie grazie di questo invito grazie alla SIPED grazie all'Università Bicocca ospitante e grazie soprattutto agli autori e ai curatori di questo volume che ci hanno fornito l'occasione per riprendere un dibattito e una problematica relativa appunto ai destini della pedagogia dove sta andando la pedagogia e chi trasmette che cosa perché credo che l'interrogativo più importante sia proprio questo è infatti la prima domanda sulla quale si sono misurati tutti gli interventi della mattina e di oggi è esattamente questa la tradizione la tradizione deriva dal verbo trado trasmettere e ogni trasmissione implica una scelta una scelta di che cosa trasmettere e di chi si fa carico di trasmettere che cosa credo che questo sia un aspetto molto importante e che spetti proprio a noi alla nostra generazione di pedagogisti la responsabilità di individuare quegli aspetti che riteniamo importanti per la riflessione pedagogica la pedagogia è sempre nel tempo ovviamente ed è sempre bisognosa del passato degli insegnamenti del passato dei riferimenti al passato quindi alla tradizione anche se il presente è la sua dimensione privilegiata perché la pedagogia è una scienza pratica è una scienza che si misura con l'esperienza concreta ma dal passato e dal presente è sempre necessariamente proiettata verso il futuro l'educazione è fondamentalmente progetto e in questo senso mi sembra molto importante sottolineare una diciamo un'immagine della pedagogia che è un po' come un Giano bifronte la statua di Giano che veniva messa alle porte della città e delle case aveva proprio questo significato continuare a guardare ciò che si lascia mentre si procede verso il nuovo quindi non dimenticare il passato nell'andare nel vasto mondo e nello stesso tempo ricordarsi di ciò che abbiamo visto quando rientriamo ecco questo dialogo tra il passato e il futuro è forse il punto centrale della riflessione pedagogica per questo mi sembra importante che non si perda il valore della tradizione non nel senso ovviamente di tornare alla tradizione o di rimanere imbrigliati imprigionati nella tradizione al contrario ma proprio per poterla superare qualsiasi posizione anche di rottura anche di smantellamento in qualche modo della della tradizione anche di contestazione della tradizione deve comunque fare i conti con la tradizione e questo è credo un insegnamento importante per i giovani e i giovanissimi pedagogisti che spesso hanno trascurato anche a motivo della eccessiva settorializzazione e specializzazione in questi anni della ricerca storica hanno trascurato quell'inquadramento storico culturale che consente invece di comprendere l'oggi e a questo leggo proprio quella che è per me la tradizione quella che è il mio rapporto con i maestri dal punto di vista accademico il rapporto diciamo più importante per me è stato quello con Piero Bertolini pur nelle differenze anche grandi che hanno caratterizzato i nostri percorsi e tuttavia io sono arrivata a Bertolini con un mio precedente percorso vedi caso appunto filosofico e ho trovato in Bertolini colui che mi ha insegnato a individuare la valenza pedagogica di un percorso che nel mio caso era più fenomenologico esistenziale e non strettamente husserliano e fenomenologico come era invece quello di Bertolini accanto a questo diciamo incontro in parte anche casuale che ho raccontato in un volume appunto dedicato a Bertolini devo dire che è stato molto importante invece tutto il lavoro successivo il lavoro del gruppo Enciclopaideia di cui hanno fatto parte anche Duccio Demetrio e Luigina Mortari il lavoro della rivista Enciclopaideia e quindi il fatto che per esempio i primi due volumi nel 1988 che hanno dato vita alla collana editoriale Enciclopaideia sono stati l'esistere pedagogico di Bertolini e successivamente il mio essere per l'educazione quindi un percorso significativo un percorso importante che ripeto anche con le divergenze anche con i dissensi reciproci ha però segnato per me un aspetto importante devo dire però che ci sono stati altri due maestri ai quali sono debitrice e sono stati i miei due tutor di dottorato uno è Bertin e l'altro è Sergio De Giacinto da Bertin ho imparato la prospettiva problematicista e la valorizzazione di quegli aspetti appunto dell'esistenzialismo ricordo che proprio negli anni del mio dottorato usciva un volume di Bertin che aveva per titolo disordine esistenziale e istanze della ragione e accanto al problematicismo quindi di Bertin la teoria sistemica l'educazione come sistema era appena uscito quando io iniziavo il dottorato l'educazione come sistema che ritengo con la portata pedagogica di questo volume che abbia aperto davvero delle prospettive molto significative per la pedagogia quindi questo è stato un po' il mio diciamo percorso e il mio rapporto con i maestri in ambito accademico quelli che ho incontrato quelli con i quali ho diciamo condiviso pezzi di strada ma ci sono anche i maestri a distanza e tra questi Eglebecchi ci sono cioè tutti quei pedagogisti che negli anni 70 e 80 hanno dibattuto le questioni epistemologiche e hanno posto l'accento sulla questione del rapporto tra filosoficità e scientificità e quindi sul senso del rapporto tra la pedagogia e le scienze umane e non quello che però mi spero di avere imparato da questi maestri quelli incontrati in carne ed ossa e quelli a distanza è fondamentalmente un insegnamento di rigore di problematicizzazione critica di antiretorica e soprattutto l'invito ad interrogarmi sul senso a non cessare di interrogarmi mai sul senso dell'evento educativo e quindi di praticare un'epistemologia nel senso letterale del termine nel senso proprio di un episteme che ha il significato di epistanei quindi di starci sopra di rifletterci sopra di pensarci su e questo è quello che ha continuato a ispirare in tutti questi anni la mia ricerca pedagogica ma anche le mie pratiche io non ho mai smesso di fare pedagogia di fatto non ho mai smesso di lavorare in senso socio educativo e quindi non ho mai smesso di fare un lavoro pratico e politico per me è sempre stato vitale il legame fra la teorizzazione da un lato e le pratiche formative educative che ho perseguito in questi anni dunque la pedagogia di fatto le pedagogie di fatto diciamo che sono declinazioni legate a una molteplicità di temi e di aspetti e di settori mi hanno comunque fatto pensare che la pedagogia è sempre una pedagogia di fatto e che il rapporto con la pedagogia generale è importante nella direzione di trovare un terreno di incontro tra le pedagogie di fatto quindi un luogo di sintesi critica un luogo di sapere che connette scienze e saperi dai confini diversi credo quindi che sia molto importante il rapporto tra la pedagogia generale e le pedagogie di fatto come interazione e sintesi critica naturalmente il fatto che le pedagogie di fatto si occupino prevalentemente di temi attuali e del presente mi porta anche a portare una mi porta anche a segnalare una piccola accentuazione su un tema prettamente bertiniano l'inattuale ecco non vorrei che nell'affanno di rincorrere l'attuale il presente non necessariamente coincide con l'attuale e quindi la definizione bertiniana dell'inattuale come idea pedagogica mi sembra che abbia ancora un valore importante per la riflessione pedagogica la fenomenologia dicevo la fenomenologia perché se devo indicare una matrice di di riferimento culturale certamente la fenomenologia ha rappresentato e rappresenta tuttora per me la possibilità di perseguire una una presenza rilevante della soggettività nella scienza pedagogica senza rinunciare al rigore Husserl definiva la fenomenologia una scienza rigorosa ma non esatta e penso infatti che se la scientificità pedagogica coincide con l'oggettività finisce per rendere oggetto il soggetto stesso di indagini o la relazione di soggetti di cui si occupa Sartre a questo proposito parla infatti di oggetto limite il soggetto è un oggetto limite nell'indagine delle scienze umane e quindi della pedagogia tra queste ecco la fenomenologia ci consente di comprendere l'evento educativo nel suo senso e quindi di spalancare le porte dal determinismo alla possibilità al poter essere alle potenzialità sempre presenti nella pedagogia e di superare quella contrapposizione o quella separazione tra la razio il cogito e i vissuti i sentimenti che la diciamo la contrapposizione cartesiana aveva reso sempre più fondanti nella cultura occidentale e che invece ancora nella cultura greca classica erano inseparati erano ancora uniti e che le moderne neuroscienze ci insegnano quanto invece le emozioni e i sentimenti siano legati alla razionalità faceva riferimento Fabri questa mattina alle neuroscienze a mio parere questo è un terreno molto molto importante da percorrere per la pedagogia vi ricordo che le neuroscienze nella versione di Damasio perché le neuroscienze sono un sistema complesso nella versione di Damasio ci dicono che per attuare comportamenti razionali è indispensabile il sentimento è indispensabile la vita emotiva in questo senso la fenomenologia ha tutta una tradizione che va da Max Scheler a Bolnov a Jasper a Binswanger un'attenzione specifica appunto ai temi della vita emotiva e questo è l'oggetto dei miei studi di questi anni perché perché portare l'accento su questa dimensione esistenziale ed educativa fondamentale è tuttavia negletta dalla pedagogia negletta anche per una legittima reazione alla alla retorica dei amicissiana dei buoni sentimenti ma che ha bisogno invece di essere recuperata anche in relazione ai cattivi sentimenti i sentimenti non sono ovviamente soltanto i buoni e credo che sia molto importante oggi in un'epoca dominata dalla cultura dell'efficienza del calcolo della misurazione della della numerazione dell'utile ecco e questa è una dimensione che è stata caratterizzata da una specie di affasia pedagogica e che ha invece bisogno di essere recuperata assieme a tutto quel sapere dei sentimenti che appartiene alla migliore tradizione pedagogica e concludo soffermandomi sulla espressione molto bella a mio parere della della invenzione responsabile piace questa espressione perché tiene insieme due termini a me molto cari la responsabilità e l'invenzione la responsabilità perché la pedagogia è sempre responsabile è sempre un rispondere chiama a rispondere responsabilità deriva da rispondeo rispondere di e rispondere a nella interpretazione di Hans Jonas o di Levinas rispondere è uscire dall'indifferenza e lasciarsi interpellare da una chiamata da una richiesta di risposta che chiede che ci chiede quindi un atto di decisione un atto di scelta per appunto assumere la responsabilità pedagogica oggi nella mia esperienza formativa più recente trovo che la parola responsabilità sia spesso dequalificata e sia ridotta al mansionario agli ordini superiori ad una logica gerarchica piuttosto che all'assunzione in proprio di responsabilità nel senso proprio di rispondeo e questo non fa che degenerare non fa che far degenerare l'azione educativa nella routine in una routine che si basa su gesti anonimi e comportamenti standardizzati ecco perché è importante allora il secondo termine quello dell'invenzione invenzione vuol dire essere in grado di lasciarsi spiazzare di essere aperti allo spiazzamento della realtà educativa che è sempre diversa da come l'abbiamo prefigurata precatalogata la realtà che incontriamo ogni giorno è una realtà sempre diversa che ci disvela le possibilità il poter essere così ma anche in un altro modo di ogni situazione allora l'agire responsabile è proprio questa invenzione perenne questo non cessare di inventare la risposta la risposta che può avere anche il suo senso innovativo e inventivo in quella che Binswanger chiama la trovata la trovata che non è improvvisazione bizzarra non è non è come dire sì improvvisazione oppressapochismo ma ha bisogno di un lungo di un duro e paziente lavoro per essere realizzata quindi l'inatteso lo spiazzamento ci consentono di assumere la responsabilità di trovare la trovata di inventare l'invenzione grazie eccoci grazie vanna per il contributo diciamo tessuto all'interno della cornice fenomenologica ma con aperture paradigmatiche molto ampie e interessanti all'insegna di quella problematizzazione che lei stessa ha evocato diciamo tra i propri criteri guida certo il problema di mettere insieme il senso e il rigore due termini che lei ha costato è uno dei problemi direi molto rilevanti per la pedagogia insieme all'altro davvero cruciale che lei ha risolto in qualche modo dentro la cornice fenomenologica ma che credo debba essere un problema mantenuto aperto soggettività e oggettività in pedagogia cioè il fatto che la pedagogia non possa in alcuna maniera in realtà rinunciare a nessuna di queste due categorie per una costruzione del proprio discorso i problemi sarebbero lunghi il contributo della fenomenologia a questo proposito è uno di quelli molto interessanti quindi ringraziamo Vanna e passiamo la parola adesso a Paolo Mottana prego Paolo Paolo mi fa notare che c'è una una posposizione dell'ordine alfabetico in ordine alfabetico tocca all'ugina Mortari qui l'ordine no no seguiamo seguiamo l'ordine alfabetico giustamente qui c'era nello stampato diciamo è stato alterato quindi io pedissequamente l'ho seguito chiedo scusa a Luigina e gli do la parola ma io ero molto contenta di essere alla fine perché chi alla fine può sempre fare il compito a metà e quindi io mi ero preparato un compito a metà il compito a metà consiste nel affrontare il tema che ci è stato dato io così l'ho scelto a partire dalla terza questione dall'ultima questione non dalla terza c'è il problema dei saperi responsabili perché penso che sia un tema importante della pedagogia e tutte le altre questioni della propria formazione delle tradizioni di riferimento poi emergeranno penso da da come affronterò questa parte questa questione molto importante io penso che per affrontare questa tematica bisogna tenere in considerazione tre elementi la domanda da cui si parte quando si fa il lavoro di ricerca il metodo e l'intenzione che muove il lavoro di ricerca sono tre questioni importanti per affrontare la propria responsabilità la domanda di ricerca quando si presenta un report di ricerca la prima cosa che ti chiedono è hai formalizzato bene la domanda di ricerca come l'hai contestualizzata si possono trovare le domande sui libri sulle riviste scientifiche quando si comincia una ricerca molto si fa di indagine bibliografica si trova magari che un tema di ricerca importante è stato pubblicato nell'ultimo libro nell'ultima rivista dell'arbre educational research e si comincia da lì io penso che bisogna cominciare da un'altra parte che è il cominciare dalla realtà e quindi qui torna diui e non sto a riprenderlo perché è stato ampiamente dibattuto il pensiero pedagogico ha bisogno di stare nella realtà agganciato alla terra radicato profondamente perché altrimenti si perde quella fenomenologia dell'esperienza di cui ha parlato benissimo prima Duccio Demetrio si perde l'oggetto dell'educazione e si rischia di costruire un sapere che è fatto di discorsi ben raffinati con una grande logica costruttiva ma che perde per sé l'oggetto quando io comincio le lezioni all'università cito sempre Socrate noi partiamo da lì Socrate quando ragiona in termini pedagogici ragiona nell'agorà non sta sotto i portici nella stoà chiuso sta fuori sta nell'agorà e misura le sue parole con gli altri ed è solamente misurando le sue parole con la realtà che trova misura per il suo stesso pensare e poi la costruzione teorica avviene quando lui va dall'agorà a casa infatti dice il problema più grosso è quello di essere amici di se stessi quando tu dopo che hai discusso con gli altri torni e nel tornare camminando devi trovare coerenza tra quello che hai detto quello che hai pensato quello che hai fatto e quello che gli altri ti hanno restituito però in questo richiamo forte all'esperienza al contatto con la realtà che è fortemente di Uiano quindi fortemente pragmatista non si deve però dimenticare il rapporto con i libri perché altrimenti si cade nella dimensione opposta e si sta in una dimensione non di ricerca ma di ricognizione dell'esistente molte ricerche empiriche sono una ricognizione dell'esistente dove c'è un'applicazione perfetta dei metodi una raccolta magari onerosa di dati ma è una ricognizione di quello che è la scienza non è mai è ricognizione dell'esistente è problematizzazione dell'esistente per fare un passo avanti e allora torna quel leggere tante volte di cui leggere tanto di cui parlava prima Susanna si deve leggere molto per poi problematizzare i dati e quindi la ricerca è questo è stare un po' nello studio ed è stare un po' nella realtà è questo andare e tornare continuamente ed è in questo andare e tornare continuamente che trova composizione quel rapporto tra empirismo e filosofia di cui si parlava prima questo da cosa l'ho imparato io dalla pratica dalla pratica di ricerca il mio dottorato lo feci all'università di Padova docente la mia tutor la professoressa Raffaella Semeraro quindi pedagogia sperimentale molto un po' lontana della pedagogia generale i miei compagni di dottorato adesso sono o dirigenti di centri di ricerca quantitativa o docenti ordinari di psicologia dell'educazione e io volevo fare una tesi di filosofia dell'educazione e quindi dopo che avevo esposto i miei argomenti in genere i miei compagni mi dicevano Luigina basta quest'aria fritta no e io me ne tornavo a casa dicendo ma come serve anche quello ma invece bisognava fare altro poi però quando andavo a Verona io facevo parte a Verona di un gruppo di ermeneutica filosofica e la mia maestra era ed è tuttora Adriana Cavarero e un giorno mi vide arrivare con un questionario e mi disse cos'è quella roba lì eh Adriana devo fare una ricerca no no hai letto il teeteto l'hai letto bene o hai perso del tempo e allora io non sapevo mai dove era la mia posizione perché quando ero a Padova tentavo di far valere la mia passione per la filosofia quando tornavo là e volevo far vedere che c'era bisogno anche di tornare nella realtà mi dicevano devi leggere il teeteto e questo che serve e così si stava un po' tra l'agire concreto e la riflessione teoretica ma è questo quello di cui c'è necessità il rapporto continuo tra la realtà che ti misura con le sue domande che sono domande reali non sono le domande spesso finte delle riviste o dei libri sono le domande che vengono dalla realtà l'altra questione quando tu le hai definite qual è il metodo che usi per affrontarle il problema del metodo non è un problema indifferente di lui dice che non c'è pensiero se non c'è metodo e quando Rorti mette in discussione il pensiero di Uiano anche se è fondamentalmente il suo maestro e dice che non c'è bisogno ma ora sorride di un'epistemologia lo dice spessissimo specialmente nei suoi scritti filosofici mette in difficoltà la stessa ermeneutica perché l'ermeneutica senza un rigore metodologico non sta in piedi e se si va a leggere bene verità e metodo Gadamer lo richiama fondamentale non dice non c'è bisogno di metodo non c'è bisogno di oggettività dice c'è bisogno di un'oggettività diversa c'è bisogno di metodo e il metodo che cos'è? il metodo non è un insieme di procedure che tu trovi nei libri e che poi applichi quando vai sul campo o non è un insieme di procedure che servono per l'analisi dei testi perché questo è un metodo fisso standardizzato la scienza non è così nei laboratori degli scienziati questo non è il metodo è interessante leggere le restituzioni che fanno i grandi scienziati del loro lavoro di ricerca il fisico Feinam che partecipò all'auguratamente per lui alla costruzione della bomba atomica allo Salamos quando dice spiega il suo modo di costruire le concettualizzazioni ti mostra che il metodo è qualche cosa che ti costruisci sul campo giorno per giorno non applicando qualcosa di già strutturato ma rischiando che le cose non funzionino e anche vagabondando non stando dentro un confine ben preciso il metodo della psicologia il metodo sociologia noi siamo divisi il metodo della antropologia lui dimostra che con la sua ricostruzione del modo in cui sono arrivati alla costruzione della bomba atomica purtroppo però lo prendo solo come esempio molte delle scoperte fondamentali sono state del tutto casuali ma sono state importanti soprattutto quelle che richiedevano di affrontare dei problemi concreti quando si trattava di mettere a punto un calcolatore nuovo perché i dati trovati in laboratorio erano di una tale complessità che mettevano in difficoltà i calcolatori esistenti allora bisognava risolvere dei problemi pratici risolvendo i problemi pratici trovavi dei problemi nuovi che venivano affrontati sul piano teoretico in una maniera differente il metodo però può diventare e questo lo sa bene chi lavora sul campo o meglio la passione per il metodo rigoroso può diventare quella che viene definita metodolatria i filosofi della scienza nordamericana usano spesso questo termine e lo usano perché nelle ricerche empiriche questo può essere un invito per i giovani che ci sono qua molta parte nei report di ricerca viene data la ricostituzione del metodo come se l'attenzione minuta e particolare alle procedure alle azioni epistemiche alle mosse euristiche garantisse il lavoro di ricerca quella dice Don Aeroe è metodolatria è una fiducia eccessiva nelle procedure che qualcuno ha già standardizzato ti metti al sicuro ma non è quello perché allora non c'è l'invenzione altro termine l'invenzione ti chiede l'azzardo e ti chiede anche di sbagliare a volte ma lo devi mettere alla prova continuamente il rigore non è qualche cosa che si conquista stando dentro una cornice ben precisa chiede degli sconfinamenti quando Kuhn parla di rivoluzioni scientifiche quando Rorty parla della scienza normale della scienza di eccezione dei filosofi che sono edificanti e gli altri queste distinzioni che sono a volte dei dualismi delle scissure per usare un termine alla Merleau-Ponty indicano che non si può mai stare al sicuro quando si fa ricerca che bisogna provare azzardare e come si fa ad azzardare come si fa ad avere un metodo per elaborazione dei dati stando nei gruppi di ricerca e Maura parlava prima delle community of research di Pias community of practice of research il lavoro scientifico non si fa mai da soli è impossibile da soli si pensa ci si prepara ma ci si prepara per confrontarsi con gli altri io penso che i veri maestri per un giovane siano quei maestri che sanno tenere i gruppi di ricerca tenere un gruppo di ricerca vuol dire tenere tante persone che la pensano anche diversamente in uno stesso gruppo e quindi tenere insieme persone che non stanno in una comfort zone cioè lì dove si sta tranquilli calmi e pacifici Duccio diceva prima in tutti questi testi manca un po' il conflitto il conflitto è importante perché senza conflitto serio severo non c'è pulitura dei concetti scientifici e ciascuno sta così a gingillarsi con i suoi pensieri e con i suoi discorsi la conversazione con gli altri il confronto con gli altri serve a dare misura Rorty parla del luogo della scienza come del luogo dove si tiene aperta la conversazione tenere aperta la conversazione non è facile perché si può cadere o nella tolleranza semplice e pacifica del pensiero dell'altro e si è tutti amici e d'accordo e non si fa scienza oppure si può rischiare il conflitto che separa le comunità scientifiche perché non ci si parla più perché allora tra quantitativi e qualitativi non si beve neppure il caffè tra i teorici gli empiristi quando noi siamo in dottorato con i quantitativi prima di trovare una cosa in comune ce ne passa ma bisogna stare lì a tentare di trovarla la vera comunità di ricerca è quella che tiene insieme tutti applicando quel principio che a me piace così tanto il principio di carità interpretativa di Donaldson che vuol dire anche se tu dici una cosa tanto differente dalla mia da non essere credibile validabile dentro il mio paradigma di ricerca comunque io accetto quello che dici e insieme lo mettiamo alla prova dei fatti e allora una vera comunità di ricerca è quella dove si esercita un pensiero franco un pensiero garbato ma franco che dice tu hai sbagliato ci deve essere qualcuno che come la professoressa Becchi segna di rosso o di blu si segnava in blu i compiti di greco gli errori più brutti erano quelli in blu mi ricordo segnati in blu infatti quando Socrate parla lui viene indicato come un parresiasta il parresiasta è colui che dice le cose con estrema franchezza e però e questa forse è la qualità che caratterizza un vero maestro il parresiasta non si limita a dire le cose con grande franchezza ma agisce secondo le cose che lui stesso dice cioè mostra una grande coerenza tra le cose che nuncia e le cose che fa è lì che si misura anche il maestro è la capacità di incarnare i pensieri ai quali ci si è affidati vengo all'ultimo aspetto che è l'intenzione l'intenzione che guida che guida il lavoro di ricerca su questo bisognerebbe ragionare moltissimo molto di più quando si fa il lavoro nei dottorati di ricerca e si guidano i giovani si fa tutoraggio le domande di ricerca i metodi ci sono tantissimi manuali sulle intenzioni poche qual è l'intenzione è quella di acquisire un alto punteggio nell'impact factor di avere un alto livello nel citation index va di moda adesso e tutto questo non si ragiona abbastanza su questi aspetti che stanno producendo un inquinamento un inquinamento forte nelle comunità scientifiche perché quando si ragiona in questo modo ci si affida le citazioni degli altri e allora si diventa molto bravi a citarsi a vicenda ne ho parlato in un convegno eravamo a Macerata di questo studio che è stato fatto dai colleghi di scienze e di informatica uno dei uno dei medici più citati in anni recenti è stato un oncologo sudamericano che portava ricerche sull'oncologia dopo qualche mese le sue ricerche hanno dimostrato che avevano prodotto un incremento dell'uso della chemioterapia con un aumento del tasso di mortalità però lui aveva un alto sistema di citazione perché era molto utile citarlo in quanto si potevano vincere i concorsi più facilmente allora qual è l'intenzione che ci guida è quello di aumentare la nostra produttività scientifica in termini di quantità è quello di avere un riconoscimento in numero di citazioni o può essere qualcosa d'altro Rorty dice e parla della filosofia che nella sua essenza è un sapere teoretico che quindi può giustificarsi un lavoro filosofico anche per la lontananza apparente dalla realtà un discorso metafisico di metafisica io penso si possa ancora parlare anche se molte ritengono di no quando per metafisica si intendono le questioni fondanti di ogni discorso e che portano quindi alla costruzione dei paradigmi logici possono essere citate indipendentemente dalla problematicità reale ma proprio lui quindi che parla di filosofia negli scritti filosofici dice che il compito di un pensiero è quello di ridurre la crudeltà e la sofferenza le ragioni di una scienza possono stare nel piacere di produrre qualcosa di bello e il bello è importante perché nell'antica Grecia il concetto più importante era il concetto di bene che è agazzon ma andava sempre insieme alla bellezza calon cai agazzon era il principio di arimente del sapere però c'era anche il principio dell'utile quando io parlo dell'utile mi si dice che è utilitarismo non è vero l'utile è il buono è il bene quando una cosa è utile vuol dire che contribuisce alla qualità della vita e allora forse bisognerebbe ripensare a questo la pedagogia e l'educazione la pedagogia nasce dal bisogno di aiutare l'educazione di aiutare l'educazione a migliorare la qualità della vita dei ragazzi dei bambini e degli educatori che lavorano sul campo grazie grazie Luigina per le riflessioni molto sottili sul problema del metodo in pedagogia certo il problema dello spazio epistemologico e dello spazio ormeneutico è una questione ormai su cui ci confrontiamo di continuo senza essere arrivati a un punto di equilibrio in questo senso ma quello di collocarlo all'interno del lavoro delle comunità reali di ricerca è indubbiamente un'indicazione un'ipotesi interessante da questo punto di vista anche se poi entro questa cornice si riproduce il problema tra la comunità ideale e la comunità reale e quindi gli spazi di problematicità del discorso e della ricerca ovviamente restano aperti ecco adesso passiamo la parola a Paolo Mottana prego grazie e anzitutto anche io ringrazio chi mi ha invitato anche perché non era del tutto scontato essendo io un po' anfibio diciamo sono un cinquantenne quindi mi colloco in quella zona di transito tra i nostri autori e non so come chiamarli diciamo i maestri sono stati chiamati qua mi sembra non mi sentirei proprio di occupare questa casella dico anche subito il mio imbarazzo diciamo a stare dentro la griglia che mi è stata commissionata spero che mi sarò perdonato se non ci starò dentro molto adesso io sono abbastanza noto per non osservare molto la disciplina e lo dico anche perché in effetti termini come maestro tradizione che oggi sono stati numerosissime volte evocati non appartengono molto al mio lessico non li amo tantissimo personalmente come ricordava anche Duccio prima diversi anni fa ho scritto ho scritto animato diciamo un seminario che poi ha dato vita a un testo che si chiamava non a caso il mentore come antimaestro e quindi credo e ho amato e credo di aver avuto fondamentalmente soprattutto degli antimaestri e lo dico anche pensando a Riccardo Massa che considero di fatto ma positivamente per me un antimaestro cioè una figura che non ha mai preteso di ammaestrarmi che aveva una grande libertà culturale ma anche soprattutto che era una persona dotata di uno straordinario fascino fascino proprio erotico nel rapporto con la conoscenza e che mi ha fatto sognare prima ancora che incontrare una persona su cui ho fantasticato che ho voluto conoscere dal quale mi sono presentato con un bizzarro progetto di un convitto educativo perché ero entusiasta dopo aver letto i suoi primi libri educazione strascolastica teoria pedagogica e prassi educativa e lui di converso si entusiasmava a sua volta quasi come un ragazzino ricordo è stato un incontro destinale e poi era una persona attraversata dai grandi eventi continentali era veramente fuori fuori dal diagramma che poi ho imparato a conoscere invece diciamo del mondo pedagogico aveva respiro aveva ossigeno attraverso di lui ho conosciuto la grande filosofia francese il mondo sommerso che lo ispirava quello dei personaggi più affascinanti come Marcel Marceau o Antoine Artaud che erano tra i suoi grandi maestri invisibili e anche per quanto mi riguarda anch'io credo che i miei anti-maestri soprattutto siano dei mentori invisibili ho un cielo stellato di mentori invisibili dovesse citarne due direi Georges Bataille quello che ho significato nella mia adolescenza e Carlo Emilio Gadda che apparentemente non c'entra nulla ma per me è stato un mentore straordinario qualcuno che mi ha insegnato non solo a scrivere ma anche a vivere in un certo senso comunque quindi se mi consentite io vorrei concentrarmi invece sul tema del libro che non fosse altro insomma ci ho dedicato una parte della mia estate a leggerlo con attenzione mi piacerebbe condividere qualche osservazione perché secondo me è un oggetto molto interessante innanzitutto mi viene da dire che bisogna ringraziare ovviamente i curatori di averci offerto questa operazione culturale importante all'interno della cosiddetta comunità pedagogica innanzitutto per quanto mi riguarda perché offre un ampliamento conoscitivo e direi anche una sorta di promozione diciamo del mondo sommerso della pedagogia italiana così anche geograficamente ramificato e mi ha consentito di conoscere voci che non conoscevo molto interessanti quindi questo innanzitutto credo che sia una cosa davvero meritevole e che non capita di frequente anche proprio per la democraticità che ho sentito nell'approccio a questa operazione poi io sottolineerei molto è stato già fatto anche da Duccio prima però mi sembra molto importante sottolineare il riscatto che io ho avvertito del carattere teorico teoretico della pedagogia perché non è affatto scontato anzi tutt'altro ma non tanto perché diciamo nel mondo pedagogico c'è una certa inclinazione progressiva così a diventare più pragmatici ma perché nel mondo c'è questa tremenda inclinazione perché siamo tutti soggetti ad una conversione radicale di tutto non solo dell'educazione verso la spendibilità la redditività l'applicabilità cioè questo è estremamente inquietante e richiede io credo oggi più che mai da parte della pedagogia ma non solo da parte della pedagogia di tutti i saperi una rivolta e un riscatto un riscatto che significa pensare criticamente tutto questo anche in maniera molto radicale molto violenta come in alcuni casi in alcuni dei testi che ho letto credo ci sia ora che immagine del pedagogico restituisce questo libro insomma da un lato c'è un po' sempre il consueto campo di dispersione non sappiamo il mondo della letteratura pedagogica ci offre una grande libertà di oggetti di tematizzazioni di stili che va anche bene lo rende un campo particolarmente interessante poi c'è diciamo quell'alternanza che ho sempre un po' riconosciuto tra diciamo proclami un po' generici auspici ottimistici insomma un po' il volemose bene che c'è sempre nella in una certa letteratura pedagogica e poi invece delle posizioni impegnative e anche degli affondi radicali e questo anche questo diciamo è un elemento persistente credo della tradizione della letteratura pedagogica ho sentito meno di altre volte quell'ansia definitoria che deriva dal complesso di inferiorità inscalfibile della pedagogia personalmente io trovo molto discutibile di cui veramente valrebbe la pena disbarazzarsi magari senza necessariamente trovare come voleva il mio maestro una soglia di epistemologizzazione ma forse accettando questa minorità come un vantaggio ma insomma adesso non possiamo entrare nel merito di questioni complicate poi ci ho trovato come anche altri hanno sottolineato stamattina un desiderio di emancipazione diffuso anche se devo dire questo desiderio di emancipazione viene così interpretato attraverso una grande osservanza della scrittura una certa ingessatura la chiamerei così che è un tratto che ancora secondo me fa del del linguaggio pedagogico un linguaggio ancora un po' non voglio usare dei termini che possono offendere qualcuno non si è mai ma un po' arretrato per certi versi e poi questa rivendicazione teorica secondo me c'è ma non viene rivendicata bene fino in fondo cioè bisognerebbe proprio rivendicarla oggi credo è una cosa che io sento come molto importante ho trovato per converso una curiosa mancanza nell'immaginazione dei temi diciamo che attengono alla dimensione della cultura visuale cioè è abbastanza bizzarro che nell'epoca in cui la cultura visuale il visivo domina totalmente nel nostro contesto sociale di fatto quasi nessuno eccezione fratta credo per qualcosa che viene detto nel saggio di Monica Ferrari rispetto appunto alle immagini ci sia veramente poco io credo che invece una delle grandi sfide oggi della teoresi pedagogica non soltanto di una specificazione del lavoro pedagogico sia quello di affrontare questo tema con pertinenza con forza del resto qualcuno l'ha detto diceva prima anche il collega Maravasi ora io però vorrei dire qualcosa di più vorrei proprio dire ciò con cui mi sono sentito risuonare cioè ciò che mi ha fratellato ci sono alcuni saggi a differenza di altri io mi permetto di differenziare che io ho sentito particolarmente diciamo su una linea che condivido e che sento che la pedagogia dovrebbe in qualche misura assumere di più assumere con più con più decisione e che questi saggi sono accomunati da alcuni elementi che io ho raccolto diciamo da un parte mi sembra la radicalità la radicalità un termine che oggi ho sentito usare poco ma secondo me molto importante è una decostruzione intransigente cioè insomma una volontà di decostruire le dimensioni statiche e gli stereotipi del discorso educativo che ancora peraltro si infittiscono per certi versi un'assunzione del dato attuale questo è stato detto stamattina da qualcuno non mi ricordo più qui ma soprattutto della dimensione economica e di potere cioè oggi la grande domanda è che cosa facciamo in questa situazione che peggio non potrebbe essere da ogni punto di vista non solo nei confronti dell'educazione ma della cultura del nostro ruolo di intellettuali cioè è veramente una questione che ci preme da vicino allora questa questione secondo me deve essere presente in ogni intervento invece secondo me in alcuni c'era e in altri non c'era oppure era estremamente sfumata poi i riferimenti al pensiero contemporaneo ce ne sono tanti ma non sono sempre riferimenti diciamo al pensiero contemporaneo che più può alimentare un impegno di questa natura una conflittualità di questa natura con un quadro che ripeto non è il quadro della pedagogia è il quadro del mondo in cui la pedagogia esiste che è molto grave molto drammatico molto allarmante da ogni punto di vista la denuncia di una pedagogia tradizionale ripetitiva ed autoriferenziale anche questo va fatto e va detto cioè questo deve essere fatto ci sono due citazioni che io volevo proporvi perché il discorso pedagogico oggi deve evitare io non dico che siano qua e figuriamoci fra di noi noi siamo ovviamente al di fuori di tutto questo ma là fuori diciamo agisce una pedagogia che è molto potente e che ha effetti straordinari sulla realtà ne parla per esempio Anna Contini nel suo bel saggio dove dice la pedagogia governativo economico imprenditorialistica che cerca che cerca di patinare quelle che altrimenti sono ben evidenti dei generazioni privatistiche della cultura del diritto delle capacitazioni del benessere e che ha la sorprendente capacità di esporre con rara e incontrovertibile evidenza e chiarezza la totale assenza di un progetto umano globale questo a me interessa personalmente e credo che oggi la pedagogia dovrebbe sostenere in maniera impegnata e radicale oppure quello che dice Paolo Perticali nel suo saggio quando parla ben guardare il discorso pedagogico si limita spesso aggiungo io ad accompagnare le illusioni del capitalismo globale che assume la persona e la libertà come principi primi e come base di partenza della realtà al fine di trasformare in organizzazione industriale tanto l'intera persona quanto l'idea stessa di libertà queste a me sembrano le urgenze nei confronti delle quali qualsiasi lavoro in qualsiasi campo in qualsiasi tematizzazione che noi portiamo avanti dovrebbero comparire non so come dire gerarchicamente al primo posto ecco su questi punti io ho trovato quattro cinque saggi che citerò come particolarmente pertinenti che sono quello di Giuseppe Annacontini quello di Paolo Perticari quello di Elena Madrussan quello di Davide Zoletto e anche quello di Gabriella Falcicchio ho trovato diciamo i testi dove sento che scorre questa vena sento che scorre questa vena poi potrei entrare nel dettaglio in ciascuno di questi saggi per dire dove e come però adesso forse la cosa diventa un po' lunga non che questo sia assente negli altri saggi l'ho trovato in qualche misura anche nei saggi di Milella di Passaseo di Ferrari però in questi ho sentito che c'è questa caratura che secondo me oggi è veramente importante e fa la differenza e fa la differenza perché la pedagogia ha più che mai bisogno di sbarazzarsi diciamo di certe indulgenze anche che continuo a sentire risuonare cioè la pedagogia non è affatto una cosa buona questo ce l'ha insegnato Riccardo Massa a me personalmente ma è una cosa cioè la pedagogia è una cosa violenta lo sappiamo tutti bene e quindi bisogna che noi siamo sempre estremamente attenti quando maneggiamo questa nozione e cerchiamo di capire dove essa può effettivamente diventare uno strumento di emancipazione o invece continua a perseverare nell'essere uno strumento che in qualche misura poi collude con gli apparati di potere che io continuo a chiamare tali certo non tutto questo è assolutamente indenne da elementi critici io credo davvero che per esempio forse ci vorrebbe un pizzico più di eterologia di eterodossia anche in questi saggi c'è un po' una preoccupazione comunque di essere di stare all'interno di certi quadri di una certa eleganza di una certa raffinatezza che va benissimo però insomma la pedagogia deve cominciare ad essere secondo me più coraggiosa di osare di più essere anche un po' più trasgressiva come lo è stata peraltro noi proprio qui abbiamo degli autori prima di tutti Eglebeck le dicevo prima nella pausa insomma secondo me una maestra di eterodossia in anni magari non recentissimi ma è fondamentale e poi ho sentito anche che c'è bisogno di più pathos di più di più di più elemento erotico questa è una mia preoccupazione però credo che sia molto importante e di immaginazione il ruolo dell'immaginazione è estremamente importante ecco questo perché ritengo che la pedagogia la nostra pedagogia dove ci sono questi elementi di novità questa cosa che serpeggia e che è sempre serpeggiata ma che non è stata secondo me l'immagine principale della pedagogia non è per questo che siamo conosciuti io credo è bisognoso di scuotimento di un'interazione più profonda di una riflessione più radicale disinibita e globale come si è detto di più aggressività di più coraggio affrontare temi che si affrontano troppo poco i temi della violenza della sessualità della morte io li sento troppo poco nei nostri convegni nei nostri seminari siamo sempre un po' avvitichiati a parlare di ricerca educativa di modelli di ricerca della valutazione cioè perché non affrontiamo queste questioni e da par nostro nel dibattito contemporaneo era un po' l'invito che ci facevano per i cari prima forse non si è afferrato fino in fondo insomma un po' un'altra pedagogia di cui queste voci io credo possano contribuire ad essere veramente degli elementi significativi in questo senso quindi sono d'accordo che la pedagogia deve ridurre la crudeltà se si intendiamo la crudeltà il male il danno nel senso credo ovviamente in cui lo intendeva prima Luigina però forse deve anche essere un po' crudele nel senso comunque di aprire di entrare con il suo bisturi nelle strutture del sociale nell'organizzazione sociale nelle relazioni nelle classi nella scuola anche per mostrare dove veramente c'è il pus dove c'è la cancrena dove c'è quello che io credo sia il problema oggi dell'educazione in questo senso per concludere volevo citare un altro mentore invisibile invisibilissimo ormai ma visibilissimo per altri versi che Friedrich Nietzsche quando ci dice che a proposito di filosofi ma vale anche per i pedagogisti il vero filosofo vive in guisa non filosofica e non saggia soprattutto imprudente e sente il peso e il dovere di cento esperimenti e di cento tentazioni di vita e mette continuamente a repentaglio se stesso gioca il suo gioco cattivo grazie grazie Paolo un richiamo ad una radicalizzazione del discorso pedagogico sottolinea un solo passaggio del suo denso contributo quello diciamo del sospetto verso una pedagogia economicista perché questo credo che colga oggi uno dei rischi della pedagogia cioè in qualche modo di smarrire un profilo autonomo per cadere in una condizione di eteronomia che la pedagogia si subordini a universi non tanto di discorso quanto di interessi forti e un rischio che stiamo attraversando in maniera molto sensibile in questa fase e credo che tanto per citarne soltanto una che per esempio il cambiamento della metafora identificativa della scuola da quella di Uiana la scuola comunità democratica alla scuola azienda che ci stiamo sentendo ripetere da questo punto di vista negli ultimi anni segnali che il pericolo di questo slittamento è tutt'altro che teorico è un pericolo molto reale contro il quale come pedagogisti sono persuaso e in questo d'accordo con Paolo anche su altri passaggi del suo discorso molto meno ma in questo pienamente d'accordo con lui che la pedagogia non deve tacere e passiamo adesso da questo punto di vista a Anna Rezzara prego grazie allora ovviamente giungo ultima e anch'io mi associo ma brevemente al ringraziamento per questa occasione importante e motivo questo ringraziamento io ho sentito nella lettura di questo testo e nei discorsi di oggi risuonare veramente quasi tutte le domande fondamentali che segnano e hanno segnato il mio fare la pedagogista il mio insegnare pedagogia il mio stare in questo mondo le ho ritrovate ho trovato ovviamente ipotesi di risposta piste di ricerca ma intorno ad alcuni nuclei ad alcune questioni che per me sono e sono state sempre fondamentali e quindi adesso quello che dirò credo che si metta in relazione e con le domande dirette che ci sono state fatte ma forse soprattutto con tutte queste domande questi interrogativi che ho trovato leggendo i saggi di questo volume e leggendo anche i contributi le letture che hanno commentato questo volume allora una prima reazione a quello che ho letto e che ho sentito già citare è stato effettivamente il sentire tutto il nuovo tutto il diverso rispetto forse a quello che per me è stato più abituale più familiare tutto il nuovo che che è presente in questi saggi in questi contributi e ho sentito molto che davvero visto che qui di dialogo fra generazioni diverse di pedagogisti si tratta ho sentito davvero non solo tutto il nuovo ma mi è sembrato di sentire anche tutto quello che è andato avanti e che quindi è diverso rispetto al mio modo di stare e di interpretare il rapporto con la pedagogia e ho ritrovato anche nelle analisi che hanno concluso nei due saggi che hanno concluso questo volume molti di questi elementi chiaramente enunciati e allora devo dire che la questione una delle questioni di cui oggi si è più parlato del rapporto col maestro e che maestro mi ha fatto sentire effettivamente ma come giusto che sia sono di un'altra generazione quindi evidentemente no mi ha fatto sentire su una posizione di grande invece bisogno sempre di maestri di grande nostalgia di maestri anche in un'età in cui forse questo è poco legittimo e perfino per riprendere un'espressione dal saggio di Eglebecchi di quei maestri che in qualche modo appunto ti controllano dove il controllo adesso è nella forma del piacere o del desiderio di un confronto continuo un altro elemento che ho ritrovato nelle analisi di questi contributi è proprio questo nuovo o questo diverso rispetto a ciò che ripeto fa parte della mia esperienza nel rapporto fare sapere anche qui ho molto condiviso mi ha molto convinto questa definizione della pedagogia vissuta soprattutto come una grande prefazione di conoscenze prefazione concettuale così mi sembra sia stata definita necessaria poi per comprendere per significare l'esperienza concreta ecco allora questa è un'altra questione di cui oggi si è parlato molto ma anche qui mi sono molto interrogata sul fatto che nella mia storia in realtà il rapporto la dialettica fra il fare il sapere fra l'esperienza educativa e la teoria educativa è stata forse sempre una dimensione di ricerca di interrogazione ma sicuramente molto più mossa nel senso certo anche una prefazione concettuale uso ancora questo termine all'esperienza al comprendere l'esperienza ma anche invertendo la direzione l'esperienza come terreno da cui scaturiscono interrogazioni che poi sono il nucleo possono essere il nucleo originario anche di teoria o comunque di conoscenze sapere pedagogico quindi anche qui un elemento di nuovo che ho ritrovato e che mi fa collocare appunto in questa diversità chiedendomi il senso di che cosa è cambiato e un altro elemento anche questo messo in evidenza da chi ha commentato i saggi ma che anch'io mi ero annotato questa grande presenza di tematiche riferite ai soggetti alle relazioni intersoggettive e quindi alla formazione pensata soprattutto o molto in rapporto agli agenti agli attori e quindi ai destinatari ai destinatari della formazione e a chi fa formazione e anche qui ho sentito accanto a questo ovvio valore di tutti questi contributi che forse quello che invece per me fa la differenza è stata sempre una ricerca e un'attesa di discorsi sui contesti e vorrei dire anche sulla struttura dei fatti e dell'esperienza educativa allora solo un elemento di storia personale che mi serve per rapportarmi alla pedagogia in particolare alla pedagogia generale allora io a differenza credo di molti sono arrivata alla pedagogia dopo essermi occupata sia come studi sia come lavoro perché ho avuto anche occasione di iniziare a lavorare molto presto mentre studiavo dalla psicologia e questo è importante perché in questo lavoro e in questo sì in questo lavoro nell'ambito di servizi psicologici ovviamente e nella mia formazione mi ero nutrita molto di sapere psicologico direi e questa è qualcosa che considero una fortuna una ricchezza direi in tutte o molte e anche molto lontane articolazioni dottrinali della psicologia quindi dal comportamentismo alle scuole psicoanalitiche ecco tutto ciò lo dico perché proprio da questa esperienza professionale e da un progetto che era un progetto di studi di tesi e di lavoro in quell'ambito a un certo punto c'è stata come dire una svolta una conversione alla ricerca della pedagogia perché lavoravo come psicologa in servizi educativi prevalentemente nella scuola e continuando a usare strumenti saperi conoscenze che arrivavano appunto dai saperi psicologici continuavo anche a sentire l'insufficienza di questi saperi nei miei intervienti nei miei discorsi nel mio cercare di comprendere le situazioni su cui lavoravo l'insufficienza di questi saperi perché in realtà sì certo potevo ragionare su fenomeni eventi processi che potevano essere illuminati da saperi psicologici ma tutto ciò avveniva su una scena educativa e allora sentivo l'esigenza di usare questi saperi e questi contributi per il mio intervento ma dentro a una cornice di senso che mi consentisse appunto di cogliere la specificità delle situazioni su cui lavoravo ed era una specificità che ne arriva al fatto che erano situazioni educative relazioni educative processi educativi ecco allora questa cosa mi ha portato via via a ricercare qualcosa che forse continuo a cercare e che spiega anche quello che ho fatto a ricercare direi un discorso sull'educazione in questo poi ci sono state sia nel percorso di studi sia nel percorso professionale delle svolte importanti perché appunto ho cambiato il progetto di una tesi in psicologia con una tesi in pedagogia questo lo devo ancora una volta la chiamo in causa a Egle Becchi perché la proposta fu sua e soprattutto fu lei a farmi vedere una pedagogia diversa forse dall'immagine che ne avevo io e quindi farmi intravedere la ricerca sull'educazione e una possibile risposta a quello che andavo cercando quindi cambiato progetto di formazione cambiati i riferimenti anche di studio e cambiato lavoro allora ho detto ricercavo un discorso sull'educazione e questo lo dico perché a proposito del quesiti sui rapporti con la pedagogia generale io credo proprio che un mio forte rapporto che riconosco anche a volte nel bisogno di affermare che mi colloco nella pedagogia generale che ricerco un discorso pedagogico cioè questa mia insistita ricerca che a volte mi sembra avere anche un po' il sapore della resistenza rispetto a frequenti riduzioni del pedagogico ad aspetti settoriali e specialistici credo che sia ancora l'onda lunga di una reazione a questo fatto che mi ha fatto allora intravedere il bisogno di una cornice di senso generale che mi consentisse un rigore concettuale e anche delle possibilità di leggere e di interpretare le situazioni in cui lavoravo con un ragionamento francamente pedagogico ecco che ha dietro delle domande che io riconosco sono sempre state in qualche modo attive nel mio lavoro nella mia ricerca nel mio studio pedagogico delle domande impossibili da cui però mi sono sentita sempre orientata cioè la ricerca alla fine era proprio quella di cercare la specificità la peculiarità della situazione educativa della relazione educativa dei processi educativi rispetto a processi che potevano essere letti con riduzioni appunto relative ai vari saperi i vari contributi e allora a volte mi sono detta anche un po' con autoironia è come se la domanda fosse ma che cos'è l'educazione che cosa fa educazione e che cosa succede cioè domande che possono essere solo come dire tensioni o domande tendenziali che naturalmente non hanno grande possibilità di ottenere delle risposte precise specifiche questo per me è voluto dire anche spostarmi da a proposito di matrici o di studi da un periodo in cui credo di poter genericamente definire la letteratura psicopedagogica questo termine è un termine che apre più domande di quanto definisca qualcosa ha proprio una ricerca di letteratura pedagogica e soprattutto di quella che forse appunto fosse più dedicata e questo è ancora attuale a occuparsi di pedagogia generale piuttosto che delle pedagogie più settoriali più specifiche forse delle pedagogie di fatto e a individuare sempre la pedagogia generale come quell'ambito in cui anche le pedagogie di fatto oltre che l'esperienza educativa potevano trovare il luogo e la sede ideale per essere pensate per aprire una riflessione per attivare quella necessaria trasversalità che quindi non riduce il fatto educativo a qualche sua dimensione né sposta l'attenzione sulla specificità di un settore pedagogico ma mantiene vive le grandi domande questo mi riconosco in una riflessione anche molto indotta da questa occasione e dalla lettura di questo testo naturalmente credo che molto di ciò derivi dall'essere stata pedagogista e di aver studiato pedagogia e soprattutto la pedagogia generale e di aver molto insegnato anzi sempre insegnato la pedagogia generale è stata fino ad anni recenti l'unico mio insegnamento e quindi confrontandomi sempre molto anche con l'insegnare pedagogia generale e con le immagini che stanno sotto la pedagogia generale da parte di chi la insegna ma anche o soprattutto da parte di chi si trova destinatario di un insegnamento di pedagogia generale ritrovando tutte le debolezze anche di questo oggi si è molto parlato della pedagogia ma forse in particolare della pedagogia generale nell'immagine diffusa e cercando di trasformarle invece in elementi di forza e quindi quasi con una battuta quando spesso risento nei commenti nei discorsi degli studenti di pedagogia generale approcciarsi a questa disciplina dicendo sì ma è un discorso come dire un po' su tutto mentre invece alcune pedagogie vanno al cuore di alcune situazioni mi rendo conto che almeno mi attribuisco come uno dei compiti quello di in qualche modo portarli a pensare che la pedagogia generale è sì una grande matrice per ragionare anche poi sugli fenomeni sui processi che si danno più settorialmente sulla scena educativa nel mondo educativo ecco in questo mio percorso è ovviamente stato decisivo nel trovare un luogo un luogo importante dove lavorare su questi temi e dare risposta a certe esigenze l'incontro con Riccardo Massa con la sua pedagogia e con la clinica della formazione e devo dire a proposito di rapporti con i maestri di quanto siamo allievi vogliamo essere maestri di quanto vogliamo e forse la pedagogia deve andare oltre come è stato detto a proposito di questi contributi importanti a me sembra di aver trovato questo luogo e di esserci rimasta io sto dentro a questa prospettiva spero non solo perché non ho intenzioni o motivazioni di andare oltre di inventare qualcosa di nuovo ma perché mi sembra che questa prospettiva abbia talmente tante domande aperte talmente tante prospettive possibili di ricerca che mi sembra un luogo in cui un campo di lavoro molto aperto anche perché e qui è stato appena detto qualcosa del genere io credo che la lezione di Riccardo Massa si configuri come una lezione che è stata contemporaneamente radicale nel senso che come dire alcune alcuni punti fermi alcuni tagli alcuni distingue alcune peculiarità sicuramente ce le ha e sono fortissime ma contemporaneamente come dire un'eredità molto aperta e come lui stesso diceva in particolare la clinica della formazione è come un oggetto per niente definito fermo e fisso ma come veramente è un campo in cui ancora molto possibile e anche necessario lavorare e andare avanti ecco allora andami a concludere naturalmente la pedagogia generale naturalmente nella forma anche della clinica della formazione è stato un po' un approdo ma anche l'inizio di un modo di fare pedagogia di essere pedagogista di ricercare in pedagogia di forse contribuire a costruire qualcosa di conoscenza pedagogica e anche di fare formazione e anche di fare didattica un modo per me particolarmente coerente e particolarmente rispondente a quelle che erano appunto le urgenze e le istanze più forti di ricomprendermi e in qualche modo identificarmi in una posizione di pedagogista perché perché mi sembra che qui dentro trovino risposte alcune esigenze importanti che sono quelle di elaborare in qualche modo quelle antinomie che sono state molto indicate nel testo di cui si è parlato anche oggi e quindi il rapporto appunto fra l'esperienza educativa la teoria educativa l'antinomia più classica cognitivo affettivo il rapporto fra il fare educazione e il conoscere e sapere di educazione e in particolare in particolare forse la questione proprio di uno sguardo gettato guardando l'esperienza la realtà educativa gettato verso il comprendere o il fare qualche ipotesi fondata sulla struttura peculiare di fondo dell'educazione che è una delle caratteristiche appunto di questo approccio e che come ho detto prima rispondeva a una mia antica tensione allora in questo in questa posizione da un lato il vantaggio uno dei vantaggi è stato anche quello di poter ricomprendere recuperare saperi diversi dentro a un quadro che ricompone pedagogicamente la conoscenza l'esplorazione e la ricerca della realtà educativa con attenzione a tutte le dimensioni che spesso sfuggono a dimensione materiale a dimensioni ideologiche eccetera e anche di ridefinire recuperare rimettere al centro della mia ricerca ma risignificandole alcuni termini che sono alcuni fra i termini più classici della tradizione pedagogica e quindi in qualche modo anche un po' forse con delle ombre che però dentro a una prospettiva di pedagogia generale ispirata alla clinica della formazione possono assumere un significato diverso alludo al termine di progetto alludo al termine di metodo alludo alla valutazione come funzione complessiva e alludo anche alla questione del modello perché io credo e chiudo che una delle mie intenzioni e una delle mie impegni è proprio quella di recuperare un'idea di modello intesa naturalmente come struttura di mediazione fra l'esperienza e la teoria per poter lavorare in quello spazio che da una parte congiunge ma da una parte separa il lavoro sul campo l'esperienza educativa diretta e la possibilità di studiarla di conoscerla e quindi di avviare una teorizzazione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti